No, questo non è il remake, questo è l'originale Resident Evil 4 per quanto è in versione HD Lo stiamo giocando, credo sia la versione PlayStation 4 E infatti volevo ringraziare intanto per prima, che non ero in live Abbiamo avuto Gufo Aldo, Gala, 23115 Alfredo GranBelfungo, bellissimo Nick E ArenaDream, 40 mesi, grazie di cuore Esatto, felice di rinnovare, è un gioco amato tantissimo Resident Evil 4 è stato il primo Resident Evil che ho finito Non perché ero troppo piccola per giocare gli altri Ma perché l'ho sempre detto a me, il classico Resident Evil non piace Mi ha sempre creato ansia e fastidio Sia per i comandi tank che ho sempre odiato in qualunque gioco Che in generale proprio per questa questione dell'inventario limitato Ma tanto limitato, perché anche il 4 è all'inventario limitato Però quantomeno a quella minigioco gestionale, no? Dello spazio, quindi quello per quanto chiaramente non è realistico Ma come sbaglio Però lo trovavo bene o male divertente Lì l'Anni Massima non ha mai l'inventario così limitato Devi fare un minimo di gestione Però alla fine si sostiene E soprattutto Resident Evil 4 è stato il primo Resident Evil Che ha preso, per quanto c'era già qualcosa nel 3 Però proprio il 4 è stato un vero e proprio cambiamento Sia per la questione di telecamera Che proprio per l'impostazione del gameplay È diventato estremamente più veloce Anche con la scusa che non erano più appunto i cattivi mostri Non erano più zombie infetti Ma comunque persone vive Quindi comunque più reattive parlavano Cioè se io ci penso un secondo Quanto è stata una rivoluzione questa cosa incredibile E quanto mi fanno tuttora Molta più ansia e paura Proprio perché penso sia normale Ed è un'ottima idea a livello di concept Non sono morti Cioè non sono... I zombie li deumanizzi Queste sono persone pazze Con va bene, le plagas, d'accordo Però sono pazzi E quindi sono vivi Vivi Cioè comunque alla fine Questi poveretti ti fanno anche pena Perché se ci pensate un secondo Loro per quanto in una maniera distorta E non funzionale Continuano a vivere la loro vita Hanno ancora il loro villaggio Gli animali Puliscono in giro Badano ai villaggi Chiaramente non funzionano più come prima Il cibo è abbandonato È tutto marcio Però Hanno ancora quell'eco Di vita normale Hanno ancora una società A modo loro Seppur distorta E questa cosa io la trovo spaventosa La trovo molto più spaventosa Del O dei ritentacolini E dei leakers bari Che per carità fanno paura Però Questa situazione La trovo molto più inquietante E anche molto più crudele Per certi versi Sono xenofobi Che poi in realtà Questo probabilmente L'avevano pure prima Cioè non è che Gli è venuto Con le placas Probabilmente L'avevano pure prima Mentre comunque Allora Al di là Al di là di questo Quindi adesso Facciamo questa one shot L'abbiamo già giocato in live Quindi chiaramente Non ci rifaccio la serie Non c'è il tempo Però Mi fa piacere Ci facciamo un duo rette Su questo Resident Evil 4 Che tra l'altro Dicevo appunto È stato il primo Resident Evil Che ho giocato È finito Me lo sono schiumato Su Gamecube Quando è uscito E non sono mai riuscita A finirlo su Playstation 2 Secondo me Il porting Playstation È pessimo Però il gioco Che uscì originalmente Per Gamecube Anche a livello di Miretutto Mi trovavo molto meglio Me lo avete confermato Anche voi Questa mia percezione È chiaramente Distorta dal tempo E dalla mancanza Di esperienza Quando lo giocai Cioè proprio Non è che ero L'esperta di videogiochi Figuriamo C'ero una Che comprava i giochi Nel negozietto Vicino casa E basta Semplicemente Con i soldi Del nonno E giocavo Di nascosto Resident Evil 4 Perché tra l'altro Vivendo Con i nonni cattolici Immaginatevi Che mi giocavo Sta cosa Dove si sparava Alle persone Quindi ero tipo Me lo giocavo Manco stessi giocando Una cosa tipo Pornografica Che è proprio Vabbè Allora Vabbè Chiaramente Ce lo giochiamo A normale Oh mannaggia Grazie Flower Mage Grazie Flower Mage Purtroppo A volte Si attiva Ho capito Qual è il problema A volte Si attiva In automatico Questa cosa Quando cambio Il font Ma non sempre Non so perché Comunque Grazie per avermelo Fatto notare Allora Vabbè Lo giochiamo A normale Resident Evil 4 Resident Evil Quanto mi faceva paura Questa cosa piccola Eh sì Però non me li fai vedere Allora C'è questa cosa Perché avevamo fatto la Io però non mi ricordo Quali sono i costumi Avevamo fatto la serie insieme Quali sono i costumi Aspè Costumi Purtroppo Se non mi dai l'anteprima Non me li ricordo Leon No Mi fa vedere Quelli del remake No No PS3 Fammi vedere i costumi Non mi devi fare vedere Quelli del remake Che fastidio Fammi vedere i costumi Aspè Devo andare sulla wiki Special 1 Allora Special 1 E' quello del RPD Special 2 Vabbè Ci giochiamo con lo special 2 Subito Vabbè Special 2 Ovviamente è special 2 Cioè non c'è neanche il dubbio È Leon Gangster Ragazzi No Feffo Mi dispiace Tantissimo Ma io Non ce la faccio Ho fatto una serie Su Su Resident Evil 1 Remake Che chiaramente è remake Ma alla fine è solo Tipo Un revamp Quasi esclusivamente Un revamp grafico E già avevo tipo L'ulcera Ve lo dico Non fa per me Non è assolutamente una critica Al gioco Ci mancherebbe altro Sono Delle pietre miliari Del mercato videoludico Ma Non fanno per me Cioè proprio Zero Ma infatti Sono bloccatina Per giocarmi Signalis Perché Ho paura Che mi faccia Quell'effetto Nonostante sia estremamente Attratta sia dal setting Che dalla storia Però Non lo so Madonna Che brutto font Allora Dai Madonna No 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 Dio No 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 Non Questa è rido No No non prendendo alcune possibilità, il Presidente dei Stati Uniti ha chiamato un plan di continuazione per sterilizzare la città di Raccoon. Con un'affare più pubblico, il governo dei Stati Uniti ha imparato un decreto indefine di un decreto di business per Umbrella. A presto i prezzi di vendita, e per ogni intenzione, la Umbrella è finita. Sì, sì. La smetto. Che faccia da schiaffi! Sì. Però qui non vedo nessun costume. Vabbè, questi filmati che non sono procedurali. Si cambia dopo, probabilmente. Beh, ovviamente i filmati non sono procedurali, figuriamoci. Certo, Feffo, si salvano tutti e due. Sì, sì, c'è il finale... Guardalo! Che deve fare la pipì. Sì, sì, il finale segreto sono questi due che vanno in vacanza. Sì. 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 Must be my imagination. Must be my imagination! Sorry it took so long. Se fosse il costume da gangster è un'animazione di ricarica diversa del Thompson. Non li ho mai usati i costumi speciali, ve lo dico. Ehm, quindi... Ma beh, più che altro... Più che altro, special assignment non l'avevo... Come si chiamava? No, il costume si chiamava. Vabbè, il DLC, diciamolo. L'avevo... No, separate ways. Separate ways. Ehm, non l'avevo mai giocato. Non l'avevo mai giocato, quindi mi sa che non avevo proprio mai avuto il costume da gangster. Ovviamente fragolina, pensa che profumino. Sì, ma infatti Flower Major sta cosa non è giustificata. Cioè, il fatto che sia freddo all'improvviso, teoricamente, che è una cosa... Ecco. Così ciò come... No, no! Vadooo! Scusate. Già... è già partito. Don Leon Corleone. Mamma mia! Che uomo! Che uomo! Che uomo incredibile! Con che coltello fuori di testa! Che è sta cosa! Non è così, cowboy! Cowboy! Allora, ammasso un po' il volume. Sì, allora, quello che dicevo prima riguardo... Riguardo... Maddo... Tipo... Riguardo... Il fatto che sia improvvisamente freddo... Non ha senso. Cioè, narrativamente parlando, il cambio di temperatura o il momento di gelo non è correlato a nessuna presenza maligna. Cioè, questa è la tipica cosa di c'è il fantasma, quindi la temperatura si è bassa, ma chiaramente non c'è niente del genere in Resident Evil 4. Non so se è un retaggio, se è una citazione o semplicemente perché c'è stata una ventata di freddo e basta e si è rimpicciolito lo scroto. Non ha nessuna correlazione fra il fatto che c'era qualcosa che spiava fra le frasche, ma chiaramente non c'è correlazione fra plagas, mostracchioli e temperatura ambientale di questo tipo. Cioè, al punto da esserci la ventata di freddo, capito? Ecco, cominciamo un secondo a sistemare le cose. Allora. Ma io non mi ricordo assolutamente la strada, madonna che brutti come hanno detto tutto. Forget your makeup. Corvi da uccidere. Io vorrei farvi notare che lì non ha il Parkinson, per chi di... Guardate come cazzo gli tremano le mani. Cominciamo un secondo a fare le cose. Così. Uno spinello. No! Maledetto. Poi mi... Pensate che vi arriva uno in casa così. Che ridere. Raga, ma chi se ne frega della completismo? È una live sola. Cioè, dai, su, state scialli. Chi se ne frega. Chi se ne frega. Già capisci che è pazzo dal fatto che si è fatto 270 gradi per girarsi, invece che... Ah, vabbè, adesso devo riuscire a mirare. Madonna che calcio. Esatto, Alfredo. Esatto. Stare Gia Camp da morire. Shit. Charnigan così. Ostile. Ah, io sto! Spera, spera. Non nei comandi. Porca. Anna, pare che devi posteggiare. Anna, pare pare che stai guidando un camioncino. Porca miseria. Incredibile. Toh, vai. Alelele. Beh. Aspetta. Atti. Che qua devo... No! Tiè! Mamma mia, che mossa che t'ho fatto. Ma no, Gabri Gabri, lui è lì, oh no, ma che ti pare, sta benissimo, succede niente. Sta benissimo, sta. Com'è che si usava così? Che tra l'altro io ho ancora i comandi in testa del remake che sono pure leggermente diversi, quindi sto... Sono confusissima. Che tra l'altro hanno nerfato un sacco il coltello, comunque. Allora, nel remake c'è una bella meccanica, comunque puoi fare i perry, è molto figa. Però tipo, nell'originale il coltello è knife only. Scusate, arrivo eh. Ugo, apri la porta, non è che ti alzi e poi non apri, giusto? Rispondi al citofono, dai. No? Citofono. Oh mamma mia. Grazie. Ecco, va bene. Posso, posso. Prendo tutto. Mamma mia. Grazie. Madonna, che cos'è arrivato? Eh, va bene. Niente. Questo è sabaco, questo è sabaco. Allora, scusate. Ci sono, eh. Apri la porta e va a scorreggiare fuori. Sì, esatto. No, no, Ugo. No, no, Ugo. Soltanto quella giornata di fetore e poi si è ripreso. Allora, qui abbiamo Yui. Spara tutto, sparo. Scusate, la smetto. Ah. Yui. Good boy. Ora gli sparo Ok, qua vedo che Leon è bravo e ha già impostato Tutto No, no, ma allora The King Mario, no, no Nella demo si vedeva chiaramente Ma si sapeva già che il coltello aveva la Durabilità Vabbè, che è il tipico Metodo d'accoglienza dei locali No? Lì c'è il tipo Antisgamo Guarda, lo bello lui Pammede Pam Pam Scusate Niente Ah, donna ai comandi Sto per la camera incollata al culo Ok La ricarica sulla X mi fa impazzire Allora, allora Guardali, guardali Guardali Rompete le palle Ah, no No Cos'è successo? Che volo incredibile ha fatto? Dove cazzo miri? Dio, dove cazzo miri? Cretino Beh Che non mi fido che spariscono i drop Qua Allora Siamo brutti Allora È una scatola di legno Grazie Grazie Simpatica Immagino non ci sia discriminazione sessuale qui Allora Beh, al di là del fatto che È una battuta veramente del cazzo E non capisco che significa Io proprio vi giuro che Non capisco che cosa intendesse Se qualcuno me la spiega in chat Mi togli un dubbio che ho da anni Perché non ho mai capito cosa intendeva Che uccidono uomini e donne Beh, ovvio Diciamo che di solito La violenza è più facile da perpetrare su una donna Piuttosto che su un uomo Quindi non capisco lo stupore Però A parte il senso dell'umorismo Di Leon Ma In realtà Allora Sembrerebbe È stato a quanto pare Comunque questa sezione Che è molto diversa Alla fine Nel remake Nella demo Non è presente Questa tizia Ora Io non la ritengo una censura Onestamente Cioè Il gioco è stato censurato Non è vero Questo Resident Evil 4 remake È violentissimo Assolutamente violentissimo Non è vero Che è stata censurata la violenza Però Onestamente Da una parte Io ho una storia simpatica Su questa tizia Perché È nascosta Nel senso Io ho fatto Penso Due o tre partite Resident Evil 4 Senza mai Vederla Non l'ho mai vista Perché Non è assolutamente Detto che Con l'inquadratura Tu la noti Ma quando L'ho vista Questa è stata Una Ecco così C'è silenzio Questa è stata Una Dei mie più Grandi Spaventi Videogiocando Non chiedetemi Perché Non lo so Ma vedere Quando io Nella mia Terza partita Credo Ho girato L'inquadratura E ho visto Quella tipa Ho gridato Non me Non me L'aspettavo Assolutamente Quindi io Io ho un rapporto Io sono particolarmente Affezionata A questa tizia Perché Vi giuro Mi Mi sono spaventata Così tanto Che mi fa Ancora paura Ho proprio Un trauma Nei confronti Di questa tizia Però Onestamente Ammesso Che l'abbiano Tolta Non vedo Il problema Innanzitutto Non è censura Perché ripeto C'è molta violenza Nel gioco Quindi non è questo Il problema In secondo luogo Il commento Che fa Leon È una battuta Del cazzo Che non ha Assolutamente senso Quindi a maggior ragione Se la levano Meglio Perché è stupida Terza cosa Secondo me Non ha neanche senso A livello concettuale Che ci sia Questa tizia Impalata Perché Non ci sono Che io ricordi Altri casi Di villici Che sono stati ostili Fra loro In generale Chi è infettato Dalle plagas Funziona un po' Come una mente collettiva Tra virgolette Cioè c'è una Più che altro Come le formiche Non sono aggressivi Fra di loro Quindi per quale motivo Lei è l'unica stronza Non infetta Di tutto il villaggio Capito cosa intendo Non ha una storia Questa donna Per cui dice È l'unica Che per qualche motivo Si è salvata Ha provato a fuggire Ed è stata uccisa No È una tizia morta A caso Quindi Perché lei È lì Cioè Tutta la gente È morta È morta Da tantissimo tempo Cioè quando Noi vediamo Noi vediamo tutti Noi vediamo tutti quei Teschi marci Però chiaramente Gente che è stata uccisa Molto tempo prima Questa è ancora fresca Quindi teoricamente Era già infetta Quindi secondo me Non ha senso Che sia stata aggredita Per cui secondo me Levarla Nonostante io abbia Questo particolare Legame Con questo modello Secondo me È un miglioramento Perché non ha Molto senso Secondo me E no Impalata per infezione Doveva essere Frollata da un pezzo È fresco Il cadavere Comunque No Secondo me No C'è ancora il sangue Ragazzi Sta ancora Sgocciolando Questa è morta Relativamente Da poco Sarà Da due giorni Massimo E neanche In realtà è sbagliato Che c'è il sangue Che gocciola Chiaramente il sangue Già in un giorno Comunque si è addensato Non lo scola È sbagliata Cioè secondo me È un errore È stata Ashley Esatto No Seriamente Non Cioè Se l'hanno tolta Secondo me Ha senso che L'abbiano tolta Non è una censura È stupido Che ci sia Non la trovo sensata È solo una cosa Per farti spaventare Ma Un forastero Eh sì Forastero Eh 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 Sì Eh Vabbè Va detto Che se mi vedo Un tizio Che arriva Vestito così Armato Pure io Insomma Sarei un po' Guarda Guarda là Guarda là Guarda là Che mi deve fare Lo scherzone Eh sì Vieni qua Va Vieni 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 qua Sì sì Bravo Lord Sadler Oh Fragorina Se vuole dormire Per strada Lascialo stare Ognuno È casa loro Sarà Che palle Leon Sarà una cosa Una tradizione Di Di questo villaggio Stare per terra Noi non giudichiamo Bohemian Nostradamus Grazie Ha regalato un abbonamento A un forastero Grazie Eh va È veramente brutto Questo costume Comunque A posto Guarda Già siamo Tipo a dieci morti Non so perché Ho l'impressione Che l'abbia detto Tipo A prenderla Per il culo Non so perché Comunque Sì 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 E me lo dici adesso Cioè mi stai seriamente Dicendo adesso Come si ricarica l'arma Ok Informazioni su Ashley Che poi c'è chi dice L'hanno imbruttita Non è vero Posso Allora È assolutamente Posso che è assolutamente Soggettivo Ma secondo me È molto più carina Nel remake Parte le orecchie Perché Ashley Ha delle orecchie D'elefante Nell'originale Ma Non lo so Cioè Ha un viso diverso Ma non è più brutta Non mi sembra Più brutta Cioè non lo so Anzi Qui ha proprio Una faccia Un po' più Un po' più Da rana Secondo me Perché la bocca È un po' larga Le orecchie Grosse Secondo me È molto più delicata A parte che sembra Dell'età giusta Nel remake Ma non la rita Poi per carità È gusto Ma Una cosa è dire Non è il mio tipo Preferivo l'originale Però non mi sembra Che l'abbiano imbruttita Poi oh Ditemi dove vivete voi Pieno così Di ragazze brutte Come Ashley Del remake Che mi ci trasferisco Perché Continuo a dire Tutti È brutta Ma anche fosse Ma chi se ne frega Età 20 Sì sì Ci stiamo credendo Sì sì Alloi Orribile No no ma io dico Io vorrei capire Dove vivono queste persone Per dire Che questa Che i personaggi Dei videogiochi Sono brutti Ditemi dove vivono Mi ci trasferisco subito Pieno di gente orribile Shieldheart Grazie È stata rapita Da un gruppo Non identificato Mentre tornava a casa All'università Il motivo è Se questo non è ancora noto Anche se secondo fonti affidabili Il responsabile Sarebbe una persona Dell'entourage del presidente Un gruppo molto risetto Di persone È stata informata Del sequestro In quanto per il momento Non abbiamo ancora scoperto L'identità della talpa I servizi segreti Hanno informazioni Secondo cui Ashley Sarebbe stata avvistata In Europa Ma senza aver Smascherato la talpa Non possiamo credere a nessuno Potrebbe essere una trappola Abbiamo pochissimi indizi Su dove possa trovarsi Stiamo interrogando Di membri I servizi segreti Chiunque abbia avuto contatti Con lei Stiamo indagando Anche sui agenti operativi Per ottenere informazioni È solo una questione di tempo Prima che la talpa Venga smascherata Mamma Va a posto Sì sì Vent'anni Sì sì Vent'anni Vabbè Mierda Chi è? Ah giusto Scusate Mi dimenticavo Che questo gioco Ha l'audio magico Cioè noi stiamo sentendo Le voci Dei villici In questo momento Peccato che le sentiamo Direttamente nelle orecchie Avevo dimenticato Questo dettaglio Che bello Leon che si cambia Di continuo Sì sì Flower Mage Esatto Esatto Che poi appunto Esatto A proposito di Le censure Nei videogiochi Cioè comunque Qua questo lo trovi Cioccato Cioccatissimo Micchia Nel remake Di tutta la scena Terribile Di questo bruciato vivo Leon non gliene frega Niente Comunque Cabron Cabron Eeeh Acaa Eeeh Acaa Eeeh Acaa E la Pa 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 Mi sembra che parlano Tipo siciliano Mi sa che qua Non c'è lo stealth Ciao tizia No Sei morto Ora Sei morta Ma che Ora si Mi sa che ora è morta E la Cafone Beh come cazzo Si ricarica Così Allora vabbè Prendiamo il pompa Qua No 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 Oh Permesso No Dov'è la Allora qual'è la Questa Te voglio matare Ecco che arriva Sono molti più di prima Eccolo Shit Te voglio matare Vero abbasta Vero l'acce Ebbene Ehm Ehm Madu KACZO ROLA Porca Troiazza E daje Ma non così Ma non così Ma non così Che non è l'animazione Senti ciccio Va Va a cagare Tutti E ancora Ma è sceso Così perché lui può farlo Capito Che cazzo No 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 Dura troppo poco E' già finito Mi stavo divertendo Così tanto No No ma infatti Black Rose Dragon Assolutamente Una cavolata Ti fanno certe kill Ho visto nella demo Terribili C'è quella della decapitazione Con l'accetta Che è tremenda Ti prendono da dietro E ti danno due botte Con l'accetta A decapitarti Non te la tagliano Con un colpo solo Bingo Niente Mi ricordavo che durava di più Nell'originale Annigan è molto colpita Comunque questa parte Questa Questa parte Nella Di gioco Secondo me È splendida L'ho sempre trovata Bellissima Questo sandbox Dove Veramente Ti puoi divertire Te la puoi fare In mille modi diversi Un po' meno divertente Il fatto che Secondo me Mi sto perdendo Tipo tutti Troppo della vita Devo sbrigarmi No Ho preso tutto Vabbè dai Ne ho ammazzati Un bel po' Di stronzetti Stronzetti Però Potevo fare meglio Langsborealis Grazie mille Allora Allora Vabbè Momento spippolo Ovviamente Molti insetti Stanno bacchettando Con i resti Vabbè Ma sì Perché appunto La cosa figa È che loro Continuano Comunque A Avere Una sorta Di quotidianità Ma Chiaramente Distorta Perché non sono più In sé Molto figa Questa cosa Una bellissima idea Ti va a cambiare Completamente La Per Assolutamente Realistica Questa cosa L'idea Dello zombie Cioè Queste sono Questi sono Vivi È fuori di testa Sta cosa Ma Il salvador È il tizio Mister Motosega L'ho ucciso L'ho ucciso Mi sa No O no Penso di sì Credo che L'ho ammazzato Dite che Non l'ho Forse no Mi sa che Non l'ho ammazzato Cazzarola Vabbè Ciao Coco Coco No Fatti uccidere Questa violenza Sugli animali Stai ferma Eh no Droppavo rubino Eh no Allora mi sa di no No Niente Vabbè Peccato Vabbè fa niente Tra l'altro Nella demo Non so cos'è Che lo triggera Ma La mucca È andata a fuoco La La mucca Mi è andata a fuoco Cioè È successo qualcosa Ho visto proprio la mucca Che gridava Mentre Mentre Andava a fuoco Usanza locale È successo qualcosa Ma non è Fisso Non è Una cosa Scriptata Comunque Allora Com'è che si arrivava Sul tetto Che c'è 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 Lì Quanto mi rimane Comunque Mi ricordo Mi ricordo Niente Ah sì Da sopra Da là Ok Allora Da qua E vabbè Pieno così Di ricchezze Che fanno Io la rompi La casa Spacchi tutto Niente Vabbè È arrivato Il momento Di curarsi Così La smette Di zoppicare Cioè Sta cosa Era il futuro Comunque Resentivo Il cavolo Questa Possibilità Di muoversi È Incredibile Ah Aspetta Munizze Tipica usanza Locale Di qua Spinello Qui Ok Questa Questa era La casa Del pompa Quanto sono male Pompa Guardala Che signorino Atletico Lui Ah Questa è Questa è Questa è Questa è Mi sono Confusa Perché la porta Era Chiusa Ma Giustamente Si richiudono Sono Sono Elastiche Queste portano La chiusura Automatica Anti Antispifero Ok Mi sa che mi sono persa qualcosa Allora Lì c'è la gallina Da qua Sono arrivata Ok Da qua Sono arrivata Non so Quattro case C'è il campanile Allora Di qua No Qua non ci sono entrata Ecco Perché me lo chiedi Pregnile Basta Si c'è il fucile a pompa Nel remake Certo che c'è C'è pure anche Il filmato Dove arriva Il tizio con la moto Sai che è diverso Così Qui Non c'è niente Scala Enorme Tra l'altro Oddio No Non farlo Vabbè Ho sentito Dolore fisico Ho sentito Proprio le Le cavie Spezzarsi Le tipi Arrivarmi Sulle tonsille Proprio Ok Non credo Di dover esaminare La porta No no Lui Lui è fatto di gomma Figuriamoci Eh lui è un neonato È tutto cartilagine Non si fa niente È bloccato E non si apre C'è una specie di simbolo Sulla porta No C'è un simbolo Non è una specie di simbolo Lì Non è una È un simbolo È uno strano simbolo Vabbè Andiamo Andiamo Appunto Non è Non è la run Fichetta Vabbè Guarda che bravo Lui che si è fatto Tutta l'ordine È un sacco Di munizioni Mi ricordavo Tutte ste munizioni Ho visto sbrilluccicare Sì Esatto Lì ce lo sbrilluccico io Madonna La mira Lion Porca troia Perché? Perché lei Come lei mancato Lion Come cazzo L'hai mancato Madonna La mira Mi sto gioco Puoi anche morire Eeeh Guardalo Te voglio matar Ancora? Ancora vivo Ecco Dai vieni qua Che ti do il calcetto Sulla Ti do il colpetto Sulla rotula Vieni qua Questa cosa Era il futuro Comunque Cioè questa cosa Di colpire Punti diversi Del corpo Con reazioni Diverse Porca miseria Che 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 Cosa folle Che bellezza Un po' Mi continua a dire Non è Non è il controller Che drifta Questa è la mira Di Resident Evil 4 Questa è la mira Di Resident Evil 4 Madonna Terribile Oh Gesù Leon Leon Ti prego Leon Sì sì Esatto Realistica Poi hai Chris Cioè Con Resident Ma ho perso il drop Vabbè Poi hai Chris Resident Evil 4 Resident Evil Come si chiama Dio mio Che puzza Com'è che si faceva cadere Questa cosa Com'è che si chiudeva Ah lì Ok Non puoi prenderlo E va Leon Sei un coglione Leon Sei veramente Un coglione Come cazzo si chiude Non si può chiudere più No Non è possibile Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Non è commentabile Questa cosa Oh no Porca troia E vabbè Perché non può allungare La sua maledetta manina Giustamente E raccoglierla Vabbè Dicevo Chris Poi è un aimbot Invece Chris è un maledetto aimbot Bene Bene Incommentabile Veramente Incommentabile Veramente Incommentabile Sono rosicando Sono veramente Rosicando Io non ho Che fa È un po' impedito Il cane No No Non lo faccio Non lo faccio Non lo faccio Ma la prende Mi ricordavo che si perdeva Vabbè Comunque È un coglione Confermiamo Che è un coglione Sì Sì Bravo Bravo Leon Bravo Ci arrivo Con il coltello Sì Dai Leon 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 Bravo Ok Ok E? E? Aaaa Sì, no, il coltello è rottissimo Ma infatti l'hanno L'hanno nerfato Nel remake Dandogli una funzione un pochino più Tattica, ecco Questo originale è abbastanza broken Il coltello Poi per carità Ci posso tranquillamente credere Che Se prendi a coltellate le persone Con un'arma del genere Le hai usciti con un paio di colpi Ok, allora Vabbè, io sto spippolando Ma non ho alcun motivo di farlo Appunto, tanto questi soldi Non so neanche quando e quanto Li potrò usare, però Niente Allora, allora Qua abbiamo fatto Qui sono entrata Lì sono entrata Devo andare là Sì Devo andare là E ci arrivo Completamente nella Nella parte finale Di qua, no? Di qua che devo scendere Penso Sì Ok Ecco Ah, bene La smettiamo? Mi dissocio Mi dissocio Da queste dichiarazioni in chat Per quanto la ship Sia potente Io mi dissocio Totalmente Non sono assolutamente D'accordo Non c'era una Tagliola qua? Ricordo male io Guardavo che c'era una tagliole No Spinelli dappertutto Le battute che si spregano Allora Non si apre Deve essere sbarrata All'altro lato Con l'aiuto Di un'altra persona Scarso Dicco qua? Non mi ricordo niente Yes Ok Le maledette uova Che fastidio Scusate eh Adesso Ok Ok Ora fa meglio Ma posso? Allora Così bella la parte del villaggio Ho già visto Questo simbolo Non ci crede Nessuno Comunque Che siano stati in grado Di fare questa cosa Guarda quanto trash Quanto trash Quanto trash Questa cosa Velocizzata Comunque Che trash Madonna Bello eh Dai Io ti prego Le pillole Leon Non è preso Gli altri Gli Anziolitici Ti trevano le manine Basta Basta Esatto Vabbè Eh qui ancora Il masso Non c'era Masso Chan Ancora Non si era visto Ci si due Con un colpo Comunque i pipistrelli Non fanno Questa cosa Questo non fa rumore Questo unico Pipistrello È silenzioso Qui non Da Capcom Non sapevano Che i pipistrelli Non sono Mosche Non fanno Non volano Così Ancora Guardate che Guardate che Mi faccio Io questa Questa Mi faccio La one shot Con La one shot Ossessivo Compulsiva Vabbè Respawnano Sono infiniti Sti cosi Cazzarola Esatto Dirti post Esatto Assolutamente Guardalo 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 Che sta là Guardalo Che sta là Che mi vuole fare Guarda Mi vuole fare Lo scherzone Mi vuole fare Porca Tua mamma In carriola Accendilo Tiè Porca vacca Tue Le manine Tremoline Lì c'è Un altro Stronzetto Dai Porca Miseria Stai fermo Con la mano Guarda Guarda Quale è ora Se la guarda Culo Sì vabbè Pure il rimbalzo Mi fa Oh incredibile Sì tra l'altro Luis 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 Non mi ricordo Non mi ricordo Manco la pronuncia A me fa impazzire Perché io non mi ricordavo Il cognome C'è un intero Nota Su Sera Che è il suo cognome Io non mi ricordavo Che era Sera E pensavo Se stavo parlando Di una donna Ciò Chi è stasera Chi è Sera Dai No non è possibile Vabbè mi sono rotta Le scatole Facciamo che ci andiamo Col pompa Sì È una questione Di principio Mi dà fastidio Mi dà Mi dà Mi dà Fastidio Cagare Vai No No Vieni qua Dai 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 Ma sta camminando Contro la parete Credo stia camminando Contro la parete Sì Cosa fanno questi suoni Non ha battuto Scioglio Non ha battuto scioglio No Poi esploderà No Vieni Sì Sì Accendi sto cazzo Accendi Vai Bra Le mie cuffie Non le orecchie È esploso È esploso pure Il ragno È le tre Grazie Schifo Ma non ha droppato No Che è sto bordello Ah è lui È lui Che bussa Pensavo fosse un cretino Che camminava Giusto Ah cazzo Ma te sei scemo Ma sei scemo Sei Caffone Caffone Maleducato Che paura Mi sa che mi è successa La stessa cosa Durante la serie Comunque Abbastanza sicura Che Mi è successa La stessa Identica cosa Ecco De Kim Mario Mica come gli altri Eh Dai Lì è un porca Troia Madonna La mano Ecco Allora Poi Allora Mi sa che non C'è altro Mangiamoci sto vetto Va Va là Che abbiamo Che abbiamo Tutte le granatine Abbinate Guarda che bellina Va bene Quindi Lì siamo entrati Qui siamo entrati Quella è chiusa Adesso entriamo Messo Sì Sì Che Leon Non ha Non ha Portato I psicofarmaci Un po' Stressato Gli tremo Le mani Perché ha Il nervosetto Andante Ma guarda Che bello Scherzetto Che mi stanno Facendo Qua Così Perché Non metti Un po' Di c4 Dentro casa Così Per Per rinfrescare L'aria No No Non ho aperto Una bomba Sta casa Esatto Ecco Perfetto Bando Nemici Uccisi 40 Proprio Tondi 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 Allora Andiamo un altro Buo avanti Porca Miseria Che fastidio L'occhio Ecco Poi è fighissima Sta cosa Perché Cioè Vedi la roba Super tecnologica Madonna Lui Si dimmelo Di nuovo Sadler Dimmelo Di nuovo Scusate Ovvio Ovvio Iopi Iopi Che fa Non è Oh E finalmente Ci togliamo Quella giacchetta Di merda Per quanto in realtà Siamo col costumino Però Ai 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 No, no, per niente cliché, no, no, no Così ha tirato a indovinare No, 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 no Comunque qualcuno si è messo a modellare in maniera molto compulsiva le orecchie Fateci caso Il livello, l'inutile livello di dettaglio delle orecchie Ah, certo Va bene Che poi Ah, adesso Tied up, ragazzi Ho fatto la battuta Stavo dicendo Stavo riflettendo su una cosa Perché Questa scena Non può essere uguale nel remake Non è uno spoiler È una roba della demo, ovviamente Perché è una cosa che succede proprio all'inizio Il primo tizio che incontri Gli rompi il collo Ma si rialza Cioè, perché c'è questa cosa diversa Che qui non c'è Nell'originale non c'è C'è questa fase embrionale della Plagas Mentre nell'originale Questo gioco Qui sono normali Loro I Come so I Ganados Come si chiama Vabbè Loro I tizi I spagnoli Sono Pazzi Però sono abbastanza normali Poi Hai la versione potenziata Che sono anche quelli dove ogni tanto gli scoppia la testa Ed esce fuori il tentacolino Tutte le varianti Di Di simpatico parassita Ma Nel remake Fin da subito Invece hai Gli infetti Che hanno quella fase In cui magari Si possono rialzare Per cui In teoria Questa stessa scena Nel remake Gli spezzi il collo Ma chi se ne frega Cioè si alza Si rialza Quindi potrebbe essere Che nel remake Qua Parte subito il combattimento Magari la scena un po' più lunga Cioè sono curiosa Di come se la gestiranno Perché Teoricamente Non dovrebbe Restare per terra Dovrebbe Rialzarsi Col collo rotto Con la Lo schifo Che gli esce dal collo E fa Perché se la cosa carina Le plaga Si fanno i versini Così Casi tipo Felici No Non l'hanno fatto Solo nella demo No 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 Si sono video di gameplay Si vedono Cioè È proprio una meccanica Aggiuntiva Un po' come I Crimson Head Del remake Del primo No Dove Che nell'originale Non ci sono Ma hanno messo Questa cosa Che Gli zombie Se non li bruci Dopo un tot Diciamo Si rialzano E sono Incazzati neri Che poi sono tipo Dei protolicker Quelli Bello lui Stranger Stranger No Hanno fatto questa cosa Che poi a proposito Ma io ho il Teoricamente questo Non è questo Appunto Stringia Giusto Qui Qui è la parte Che odio Fastidiosissima Con 4000 nemici Messi di merda Solo per rompere Le scatole Non ho mai sopportato Sto pezzo Che poi Che ridere Perché pensate Ho qualcosa Che ti potrebbe interessare Si apre il cappotto E sotto è nudo Niente Scusate La smetto Sì Sì Va bene Allora Allora La mitraietta Allora Vabbè Fucile Giusto Giusto Grazie Grazie Per forza 7000 e 3000 Mirano Preciso Beh che non mi serve La ma Questa Solo Però Stranger Stranger Thank you Is that all Thank you What are you buying Aspetta 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 Allora Con molta calma Perché qua c'è tutto Un lavoro da fare Aspetta Allora Allora No No Oh Tio Non è Simmetrico Non è simmetrico Oddio Come posso fare Basta No ragazzi Non è sabbacu Io sono sempre stata così Non c'entra niente Sabbacu Allora Sì Aspetta Ah Sì Aspetta Allora 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 Aspetta No È molto Molto Fastidiosa Questa cosa Però va bene Ok Va bene Resisterò Quant'è che costa L'ottimizzazione Tutto dal lato destro Della cuffia Comunque Tua mamma Baracchina Comunque Vabbè Poi qua mi par Ho visto nella valigia No Non me ne posso combinare Ragazzi Se ne trovo una gialla Non le posso combinare Qui c'è Roba Poi qua uno Si può mettere a giocare A fare al tirassegno Guarda è bello Ma do Quanto Brandeggia Comunque Sei un animale Leon Sei veramente Una bestia Sei veramente Una bestia Fattelo dire Ma almeno mentre Ma almeno mentre Spari Ma Ma trattieni Quel respiro La manina Ferma Ma che cazzo T'hanno insegnato Veramente Ma che cazzo Spari Bestia Salve Venite qua Leon Leon Come Che come esploso Quello Quello Si sono uccisi Tra loro No Ma è un eroe Posso stare tutto il giorno A fare questa cosa Non so A fare Andiamo tutto il giorno Non è un problema Prego Prego Vieni 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 Noo E no E non vale E non vale E non vale Perché qua E Non è vero Beh Dai Leon Ti prego Io che continuo a cercare Di fare il cambio veloce Comunque Di Di equipaggiamento Senti ma In teoria Dovevi bucare Non vorrei dire Cazzo Ok Ma è esploso Sì E esploso Perfetto Soldi Soldi Che poi spariscono Sì Sì Ven Venghino Venghino Prese Entranno Il Mermelico Hanno dei problemi Comunque Locomotori Importanti E vabbè Ho capito I miei drop Ho capito 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 ancora ci sarà qualcun altro poverini comunque bullizzatissimi io me la ricordo ecco non ricordo sta cosa dei bastardi che minnaggia ben secondo devo fare manovra va fangulo sei incastrato zaron grazie nooo la mia streak nooo la mia streak perfetta è morto ucciso dalla porta no ancora vivo aspetta dai che è morto è morto è morto la porta fa testo dove questo che è quello questo che cilla tantissimo il tipo che sta cillando un sacco scusate devo curarmi perché non lo sopporto non lo sopporto lione lione che zoppica lione porca perché 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 chi è che sta ruptando c'è ancora allora e vabbè si fa sta benissimo lui fatto niente madonna quanti sono che palle quanti sono allora chi manca quel cornuto manca oh ancora c'è no 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 mori ecco l'ho già portato l'ho già giocato stiamo stiamo facendo giusto per scherzare i primi capitoli prima del remake però abbiamo già giocato dura veramente troppo per quanto mi riguarda il 4 onestamente non solo il remake ma l'originale è un po' pesantino per quanto mi riguarda comunque una volta ogni tot sì però considerando che abbiamo comunque il remake a brevissimo da giocare non sarebbe un'indigestione dov'è? chi va? dov'è? e vabbè raga non lo so dov'è? dov'eravate? cioè che facciamo? quel partito è incazzatissimo eh codere mi ha rotto i coglioni oh ho capito no dai che e vabbè oh ok tu che raccoglie e raccattai i soldi che bello che cadono comunque dai sono finiti lo so che non serve ucciderli tutti eh cioè volendo uno si prende le parti del del medaglione e tela però vabbè lo fai ecco oh fucking finally nooo ti fre grazie 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 per il supporto aspetta va bene sono soddisfatta va bene così meglio di prima a posto situazione in aumento che poi mi pare che sia proprio uscito si è uscito l'ho anche comprato credo un gioco un giochino di due lire chiaramente che è tipo solo sulla sulla gestione della cassettina di resident evil 4 chiaramente non è ufficiale non mi ricordo neanche come si chiama però mi pare si si che l'ho comprato pure è una cosa stupidissima ed è tipo solo gestione della cassettina ad incastrare tutte le cose ma perché è troppo divertente c'è una cosa così stupida e contemporaneamente così geniale che è una meraviglia che bravo Dio che si prende gli emblemi oh no oh no no cosa hai fatto no ricarica questo fucile subito ti prego no è full questa cosa è terribile questa cosa questa cosa è terribile questa è la cosa più brutta che poteva succedere e vabbè vabbè troverò qualcos'altro no sparemo ci ho pensato ci ho seriamente pensato però sì andiamo giù figurati che cosa può succedere questa è una crema non ti fa niente dai dai adesso troviamo qualcos'altro dentro questo barile dai oh perfetto do niente ma senti cos'è tolla ma c'è ancora il mercante non me lo ricordo mica mercante che si è sentito tutti gli spari massacri tipo cartone animato tutti morti maledetto dove sei to guarda aspetta allora senti no non ho niente da venderti mi sa no non ho niente da venderti però ho una pistola odiosa sì sì no il gioco non è difficilissimo comunque una volta che una certa età diciamo che ti odio ma sapete che sono penso che farò nulla bello non c'è manco la stabilità beh dici migliori la stabilità e la mira migliora ma che no 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 eh ti ho detto io di puttana dico di putta beh vanna quanto la odio la pistola quanto è bella la mitraglietta però non è un mitraglietta è un'arma inutile sì potenzialo al massimo poi vediamo eh no il bello è che mi avevano mi ricordo nella ma non dico blind ma quasi perché comunque non avevo non lo giocavo da anni quindi non me lo ricordavo no no la mitraglietta è inutile 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 tipo la cosa più rotta di tutte completamente broken cioè della serie veramente che vendi la pistola cretino lì sei veramente un cretino vai eh nel set esatto dai nel quattro la mitraglietta è tipo una cosa boh sto sbagliando tutti i tassi tutti li ho sbagliati tutti ho premuto tutto quello che non dovevo premere no enough cash stranger perfetto già già meglio già meglio non lo apro l'inventario sennò mi rimetto a sistemarlo aha la bella maschera ci guarda dall'altro lato guarda là che bellina la maschera oh oh no 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 Mica hanno droppato le merda Tutti i braccini Tutte le cose che potevo colpire La porta è l'arma secondaria Sì, sì, esatto La porta è l'arma segreta Insieme al coltello Lì non è armato di coltello e porta Poi per carità In realtà è anche realistico Nel senso che la porta in faccia ti fa malissimo Comunque Fa veramente malissimo Io vorrei uccidere Uccidere Chi rompe le palle ancora Perché non voglio sentire più questo rompo Questa musica fa seriosissima Immagino che Dai, veloce Io non mi ricordo dove sono i nemici Non ho questa memoria È passato troppo tempo Comunque, però vabbè Eh, siete un po' stupidini E siete un po' scemini Porca miseria Che è successo? Porca Ma sei stronzo Stato Cioè, questi stavano in mezzo alle Alle Tagliole Ti sembra normale? Non è Ok Strano effetto Che ha l'acqua Allora, torniamo un secondo indietro Adesso Adesso No, no Aspetta Allora Allora, allora Porca Eh, ho capito Ah, allora Eh Quindi Qui non c'è nulla Qui non c'è nulla Qui non c'è nulla Ok Ok Quindi Mi sa che abbiamo Abbiamo fatto il giro Qui non c'è nulla A posto Pronti Pronti Qui siamo entrati E quasi continuo Eh, ci sono i pesci Usa Usa Che gli devi dire Che gli devi dire a sto gioco Capolavoro C'è Oh no Peggio di prima Vabbè Intanto dobbiamo vendere la carpa Anzi Spariamo alla carpa, va? Ci liberiamo lo spazio Spara alla carpa Spara alla carpa Sono due metri d'acqua La puoi sparare alla carpa Niente La pistola della chicco Vabbè Niente Io ho comunque Merito un sacco di botte Facciamo stare le carpe Il fatto che lui vada in giro Con una valigetta Con dentro una carpa morta Comunque È tipo un capolavoro Per quanto mi riguarda Cioè Vai a consacrare Un gioco Com'è Capolavoro assoluto Una scelta Simile Quello è scappato Vabbè Allora Vediamo se devi fare Di nuovo il minchione Bravo 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 Ok Stavolta Bello che mi fa ridere Perché Apri Ma non può più chiudere Cioè Ah sì Volendo Qua si può fare Il giro Non serve farla esplodere Per passare Niente Magari Magari la usiamo Qui Ah giù Giusto I enigmi Big brain Mamma mia Che bravo Mamma mia Si vede Che è stato addestrato Bravo 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 Che fa girare Le palle Poi continua Ti infila a casa Delle persone E rupi Comunque Un pochino Te lo meriti Poi che Provano a ucciderti Molto creepy Che abbiano Tipo Versioni Ripetute Dello stesso Quadro In casa Sono tutti Libri di testo Scritti in inglese Non ho tempo Per leggerli Fa pure finta Che sa leggere Come richiesto Da Lord Sadler O la gente In custodia Vivo Perché tenerlo In vita Non ho idea Di quali siano Le sue Intenzioni Ma credevo Li tenesse Separati Non nella stessa Stanza Come ha fatto Non credo Che Luis Si fidi Chi non conosce Ma se dovessero Collaborare La situazione Si complicherebbe Se fosse coinvolto Un'ignota Terza parte Non credo Che si lascerebbe Sfuggire All'occasione Del genere O forse Il comandante Il comandante Il comandante Il comandante Poi vado a resta parte, arrivi mai, poi vado a resta Le chiama sempre ai momenti Più sbagliati Comunque Los Illuminados Pfff Los Illuminados Che faccia Che faccia Leon qua Che faccia è Che faccia Che faccia Così Poveri piantine Comunque dentro le Le ante Sì qua c'è il pisciottone Qua c'è il tipo che piscia Permesso No volevo Ecco Eh niente Usano persino il bagno Immagino si possano definire Si possano quasi definire civili Va bene Va bene Che belli commenti Siamo più o meno sulla falsa rega di E pane Comunque Sembra che i abitanti di questa casa Mangino come normali esseri umani Ricordiamoci Ricordiamoci sempre che Niente Saliamo al piano di sopra Niente saliamo al piano di sopra Ah no Siamo arrivati al piano di sopra Sono scema Giustamente Abbiamo fatto questo giro Pappappero Qua non c'è niente Il vinello Si può fare niente Guardalo Guardalo Che bellezza Che uomo Ah qua non si può uscire Va là Che bellino Lo prendo a colpi di carpa Bello lui Pam Fico De puta Quanto mi segue Ah No Me l'ero scordato No Mi ero dimenticata Che mi faceva lo scherzo Dietro la porta No Tette Madonna Mamma mia Quanto sei trash Lui che si lancia dalla finestra Mi fa impazzire Ma non è Ah non è despawnato Ah ok 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 No vabbè Se no ci rimanevo troppo male Vieni vieni qua Qui qui Di qua Bravo Di qua Di qua Dai No Non funzionano Che sta facendo Che fa Che fa Che fa Che fa Che fa Balla Balla lui No Non funzionano le daiole Ballava lui 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 ha la motosega Però il suo sogno era Essere una ballerina Che trash Comunque la scena di Ada Mamma mia Che schifo Dai Raga Terribile Terribile La scena di Ada Cioè va bene Perché so bad It's so good So bad It's so good Però è proprio terribile Sare La coscia In quel modo Così stupido Così proprio Stupida Quella scena Dai Lì Lì Non ho il tuo Braccino corto De merda La signora La signora Ah No Morto Dai Senti comunque Con una dentatura È incredibile Eh qua c'era il serpente No Non mi ricordo niente Devo Devo Non è possibile Tutto così Disordinato È discendenza Genovese Esatto Eh Addirittura Che mossa Che mossa Incredibile Lei Mancatissima Comunque Lei si è presa Un colpo Di Doppietta Tipo A 4 cm Alla Ma Non è meno Ha sentito niente No Le munizioni Mitraglietta Mitraglietta Sabaku Grazie per il ride Grazie per il ride Qui stiamo Qui stiamo facendo Facendo un'operazione Nostalgia Un'attesa In attesa di domani O forse Dopodomani Chissà Non sarebbe a parlare Quando si gioca Si può dire Credo non si possa ancora dire Sparita la trave E Ok Ti sana Ti sana Se non fossi live Di sana Guardali Guardali Senti Facciamo prima Bella lei La sua bustietta No Calcio Il braccetto Cattiveria 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 Si ricordi Esatto Esatto Ma infatti Questa è l'operazione Nostalgia Pre Pre remake Chi c'è Di vivo Perché Perché Ah Ah c'è Quello lì Spe Spe Sento grugnire Sento grugnire Chi è che sta ruttando I grugniti I grugniti Li sento Però non so dove sono Mi risentivo Il preferito Oddio Domanda difficile In realtà Così su due piedi Non ci ho mai pensato Onestamente Così su due piedi Non saprei rispondere Ma più che altro Perché Alla fine È una saga È una saga Che ho giocato Probabilmente Allora Non è il migliore Per quanto mi riguarda A livello di affezione Sicuramente il 4 È quello A cui sono più affezionata Però Non è che ci ho mai giocato Così tanto Da poter dire Che è Che sono una fan Quindi non saprei Chi Dov'è Chi è che mi lancia le cose Che è sul tetto Eccolo Eh Non è il minaccio Sul tetto Sper Cadi va No Dai Ecco Sì sì Ma indubbiamente No Il 2 remake È un giocone Incredibile Assolutamente Però c'è sempre Quel problema Per quanto mi riguarda Cioè È molto probabile È molto probabile Che il mio Resident Evil preferito Sarà il 4 remake Ve lo dico Quindi Aspettiamo La risposta A questa domanda Alla fine Di Resident Evil 4 remake È molto probabile Perché il 4 Indubbiamente È quello a cui sono più affezionata E questo remake Sembra qualcosa di incredibile Per cui Probabilmente Sarà il 4 remake Però Così su dei piedi Il fatto è che io L'ho detto all'inizio live I Resident Evil Classici Non sono assolutamente Il mio genere Mi fanno venire L'orticaria Di contro però Hai dei remake Tipo il 2 remake Fichissimo Però È comunque Fio di quel Tipo di gioco Con 10 miliardi Di maledetti Enigmi E stronzate Che non sopporto Ma giustamente Ancora bloccata Però Che continua a dire Non è una critica Al genere È una critica Che faccio io Alla tipologia di gioco Non fa per me Ma ovviamente Non è una Brutta scelta Di game design Semplicemente Sono io Che non lo sopporto Per cui alla fine Il 2 è fantastico Il 2 remake È fantastico Però A me Viene nervoso Mi viene comunque Il nervoso A giocarlo Per Dirò Mi è piaciuto Per quanto sia Comunque Indubbiamente Inferiore Mi è divertito Di più Il 3 remake Che è Caffonissimo Ed è molto più Proprio da cervello Spent Completamente da cervello Spento E E mi ha divertito Di più Alla fine C'è proprio Ignorantissimo Il 3 Il 3 remake Madonna Proprio Caffone Caffone Abbiamo fatto ancora Più cafone La parte finale Bello lui Bello lui Sì Poi appunto Si hanno tagliato roba Al 3 remake Lo so Chiaramente Da non rompere Ma infatti Assolutamente Da criticare Questa Questa scelta Però Alla fine A me ha divertito Meno enigmi E più botte Mi ha divertito Pur con i suoi difetti Questo lo vendo Perché non mi serve Rubino non serve a niente Rubino non si va a incastonare Questo si vende e basta Queste Vanno fatte Rubino non lo mette Da nessuna parte E vabbè Tu non hai niente Da Calcio la mitraglietta Io sono molto tentata A prendere la mitraglietta Infatti Non ho dove Cavolo Infilarla Fammi vedere Un secondo Come sono messa Fammi vedere Non ho spazio Per la mitraglietta Non c'è spazio Dovrei vendere la pistola Ma non posso Vendere la pistola Cioè c'è lo spazio Per la mitraglietta Però poi Mi Mitraglietta Non è È sei La mitraglietta è sei Di se non mi ricordo Tra l'altro Non te lo dice Ma ancora anticipo Però forse posso fare la prova Non si prende i soldi subito Cioè posso annullare L'acquisto Giusto Mi si annulla Ciao Elia Ciao Cinghiera e bianco Appena possibile Appena possibile Non so Non so se lo posso ancora dire Quindi Nel dubbio non lo dico Ah si annulla Infatti È sei Mi ricordavo che era sei Ok Io la compro Cioè tipo subito Ok Il calcio no Perché non è il momento Ok Ridi 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 Vabbè Dai sti cazzi Io compro Vabbè Ridi 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 Sono un serbio Eh Eeeh Non è niente Ok Questo è un bloccata Perso Perso completamente Nel senso dell'orientamento Di qua Bello lui Mamma mia Cinghiera e bianco Sì speriamo Temo di no Temo di no Ma sarebbe bellissimo Ho sbagliato? No è giusto Esatto È giusto Ok Ah l'enigma delle tombe Che stronzata Bellissima Eh te va Dov'è? Sì sì È lui Vieni vieni Madò Dion però Ok Eh Allora Porca No no Ma non è il Parkinson Leon eh Assolutamente Dai 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 Vabbè Forse ci arrivo col braccio Metto sotto Faccio I I I Non ci arriva Sta troppo in alto Cretino Cretino E sono emozionato Eh vabbè Ma non considererei Allora La mitraglietta Sembra molto cazzuta Ho visto della demo Ed era l'arma migliore Però Non giudicherei La potenza della mitraglietta Dalla Dalla demo Perché non è detto Che sia Bilanciata Allo stesso modo Magari è fatto Potrebbe essere Stato fatto apposta Proprio perché Un'arma segreta Magari l'hanno fatta Estremamente forte Quindi Lo prenderei Con le pinze Questa cosa Della mitraglietta Della demo Ecco Però se Da quella Quello che ho visto Della demo Tutti dicevano Che era Che era molto 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 forte Un fortissimo potere D'arresto Però ripeto Certo che sei un deficiente Comunque Dai esplodi E' partito E' partito Ma cosa è successo Dove è ammirato I uomini Cadono ai piedi Di Leon Lui è talmente Bello Che cadono I suoi piedi Qualcuno ha droppato Qui Ma che Mi pare Sean Sono su Playstation Quindi Direi che Sarebbe un po' Complicato Modare Sto giocando La versione Console Lui Quello È morto Senza Battere Ciglio Comunque Giusto Sì Non me lo ricordo Però Un macello Un macello A posto Le illuminate Tutto Cosa ho vinto Raido Grazie Allora Ok Sbagliato Ma la sono Complicata Giusto Per il gusto Di Quindi Fatto ciò Fatto ciò Ovviamente Lei che dovrebbe Fare Fammi capire Veramente ha detto Una cosa Molta intelligente Leon Sì Some way Detta anche Doppietta Contro il legno Marcio Leon Giusto per Vorrei ricordarti Che hai Tipo Sette armi Però Non ti preoccupare Ok Qua mi pare Che Io controllo La mappa Ma Mi pare Che non ci sia Niente Giusto qua Mi son persa Una cosa Dietro Orca miseria Vabbè Cosa Mi sono persa Ma lo ricordo Mica Qua Qua Non è questo E' più indietro E' infatti E' più indietro Andiamo indietro Ah No Ashley Ashley Sì All'armatura Orribile Esatto Con questa skin Ti prego E' questo E' qui dentro Mi sa C'è una cosa qua Non mi pare Mi pare Ah giusto Apparivano le cosette Vero 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 Ecco A posto Me l'ero Completamente Dimenticata Sta cosa Mercante Mercante Ho cose per te Qua Welcome Welcome Sì Sì Medaglioni Poi chi è che attacca le cose al soffitto Come c'è finito Quel coso sul soffitto Si si poi li compra Li aveva due palmi Ma perché non aveva voglia Capito Ma in realtà E' tipo Un'attività ludica Per gli stranieri C'è tipo una caccia al tesoro Praticamente ti nascondono Eh siamo stati bravi Che abbiamo preso tutte le cacatine Eh siamo stati bravissimi Abbiamo fatto pulizia Abbiamo preso tutto Dicevo Che in realtà E' proprio una cosa ludica Che fanno loro Mettono Sto sbagliando Sto tornando indietro No giusto Ok Mettono I tesori apposta In giro Per Per la gente E poi li deve raccogliere Questa è la spiegazione Per cui ci sono Tutte se stronzate in giro Le pietre preziose Sulle grotte Che in realtà Era proprio un'attività Turistica Di questo Di questo Di questo luogo Ok allora Io onestamente Non mi ricordo Che cosa devo fare Lo dico proprio francamente Quindi controllerò La mappa Da Devo fare No devo andare a destra Esatto esatto C'è il ponte Sì giusto di qua Di qua non l'avevo visto Ok Andiamo Qua ci sono i tizi Sì sì Guarda Allora è bravo Che è Qui Rip Rion Leon Raca Cretino Allora Che cagare Non ricordavo Che faccia Le serpente Allora Chiusura Della chiesa Riguardo Riguardo ai due fuggitivi La cattura di Luis È la priorità numero uno Dopo ci occuperemo Della gente statuniense Tra l'altro questa cosa È molto interessante Perché Tu video giocatore Pensi Cavolo Cioè Siamo i protagonisti E invece no Luis è più importante Di noi Quello che ci ha rubato Luis è molto più importante Della ragazza Se non lo recuperiamo La ragazza non ci serve Dobbiamo recuperarlo Per realizzare il nostro piano Se finisce le mani sbagliate Il mondo potrebbe diventare Un posto completamente diverso Rispetto ai piani Lord Sadler È una cosa che va evitata Ad ogni costo Sono tutti Acculturatissimi Scrivono con una dizione Perfetta Proprio una grammatica Le virgole La punteggiatura Tuttavia Non abbiamo intenzione Di rilasciare la ragazza Per evitare che la gente La trovi Ho chiuso a chiave Alla porta della chiesa Dove è reclusa Per entrare nella chiesa È necessaria L'approvazione del Lord Sadler C'è una chiave Al di là del lago Ma è al sicuro Soprattutto dopo che Del lago È stato risvegliato dal Lord È impossibile attraversare Vivi il lago Inoltre il nostro stesso sangue Scorre nelle vene della gente È solo una questione di tempo Prima che diventi uno di noi In seguito Non rimarrà più nessuno A cercare la ragazza Sì Finché gli Stati Uniti Non vi lanceranno Contro l'esercito Però non lo possono fare Perché Bla 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 Nessuno deve sapere C'è la talpa Eccetera eccetera D'accordo Però Aspetta Più vicino Troppe munizioni Facciamo I cafoni Va Bello Bello fare Saltare Le teste In questo gioco Non vedo l'ora Col remake Che ci sarà Il DualSense Mamma mia Tutte le Le vibrazioni Con gli headshot Erika Big sister Sì sì Siamo molto fashion Purtroppo stiamo per finire Lo spazio nella valigetta Comunque Questo è un problema Tipo finito lo spazio Cioè qua ridiamo E scherziamo Ma Io non le voglio combinare Le Le erbette verdi Madò 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 Mamma mia Ottano Grazie Scusate Ecco Questo è molto fastidioso Invece Questo è veramente È veramente fastidioso È tutto così disordinato È tutto così disordinato È sbagliato Piglia tutto 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 Raccogli tutto Porca Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no troppe munizioni mannaggia quel bello che senti sti versi e dici chi è che sta russando merda merda finendo lo spazio proprio lo sento che sta finendo tantissimo è finito ho capito vendimi la valigia grossa maledetto devi vendermi la valigia grossa qua ok quello qua uno può mettersi a ammazzare tutte le cose allora ciccio bello qua maledetto dammi la valigia grossa dammi la valigia grossa fastidio me ne frega niente di ottimizzare la pistolina e niente tocca andare così finisce così brutale la musica no no che finire prima di giocare al remake l'ho già giocato l'ho già portato in live l'ho già giocato in live questa era giusto per fare una operazione nostalgia prima del remake ma guarda puttana tutti i massi pronti per noi sprinta va babbana ok facciamo finta che non è successo niente guarda facciamo così è buonanotte sì non ha le scarpe adatte per lo sprint esatto esatto non è vestito adeguatamente per sprintare e dai cazzo ma che palle che siamo come munizioni mitraie ho sprecato i due proiettili apposta ho sprecato i proiettili apposta e mi hai dato la mitraglietta vabbè meglio masso 2 l'iron 0 va bene facciamo canto brutti questi vabbè perché poi come vedete ero un masso di cartapesta perché si è tipo disintegrato ok io non ce la faccio a prenderlo da là Con sta manina che trema Succede, succede Capita, a volte Capita anche questo Vabbè, senti, va E ho, succede, succede Messa in sicurezza è importante Capito? Ma, cosa è successo? Signore, lei ha un ginocchio incredibile È morto prima lui del ginocchio rotto È sparito il drop Mi sono buttata per prendere Mi sono buttata per prendere il drop Sono sporcata il vestitino Dov'è? Serpente, serpente No 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 Ho colpito il filo, comunque Eccolo E bam Tutti sul nervetto sciatico Loris Ho sbagliato Porca No E allora Chi è? Caffone Chi è? Ti voglio muotare Ti voglio muotare Chi è? Uomini! Ok, allora Vabbè Shishish Quindi Chi manca? Anche tu? Un forestero! Un forestero! Dov'è? Eccolo No è finito Un forestero Bele Merda Che bell'uomo che è Che è perso un cina, che è perso un cina Questo lì on delicata Ah l'ho ucciso L'ho ucciso in apertura Sono stata bravissima Allora Continua ad avere troppe munizioni Comunque C'è qualcosa di profondamente Sbagliato in tutto questo Però Va bene così Aspetta Così Comunque è tutto molto sbagliato Allora Scarichiamo un poco di mitraglietta Va Che cosa cazzo sta succedendo C'è c'è Era arrivato il pulmino degli anziani Tutti insieme Che paura Mi sono girato un secondo Erav arrivati tutti quanti Porca miseria Ok Ok Allora Allora No Troppe cose Qui ci sono tesori Yes Allora Cosa c'è qua Sopra Sopra Partito il grilletto Sparato due colpi Ok Antica pipa Bruttissima Tra l'altro Però Vabbè C'è ancora il serpente Comunque Che sta facendo Tutto il suo giro Donna Lion Lion Si è un pochino Però Eh Ok Ciao Marty Che belli che siamo Oh no 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 aspetta È tutto assolutamente perfetto Ecco Perfetto Sì sì no Questo gioco è Fantastico Su certe cose Non è perfetto Ha comunque Dei problemi Soprattutto nella parte finale Per quanto mi Riguarda però È Comunque È troppo divertente L'inizio È fantastico L'inizio è veramente Veramente Fantastico Poi se andiamo un po' Nella seconda metà Si perde Però L'inizio è Incredibile Poi infatti Questa cosa Sarà diversa Perché Abbiamo visto Nel remake Con la Censou demo Che Li vediamo subito I poliziotti Abbiamo Il primo Nella cantina Che invece Qua non c'è Il primo Lo trovi morto Nella cantina E il secondo Lo bruciano vivo Quindi qua Sarà diversa La scena Per forza Chissà com'è Qui non c'è nulla No Si lo so Che succede Con il parano dei pesci L'abbiamo fatto In blind Ragazzi Lo so Che succede Per chi non lo sapesse Se si rompe Le scatole In acqua Esce Il mostrone E ti fa Fare una brutta fine Questo Buffo scherzetto Molto simpatico Però posso Sucare Perché Aspetta La posso infilare No Ok Posso Oh no Non voglio perdere Le mie preziosissime Le mie preziosissime Uova Le mie uova Non voglio Buttare le uova No Io me le tengo Le uova Io me le tengo Le uova Non posso neanche usarla Sono full L'erbetta Me la prendo L'erbetta Me la prendo C'era un tesoro Sono pazza L'ho già preso Sì L'ho già preso Ok Sì Qua se si spara i pesci Arriva il mostro Che ti ciompa Ora qua ci sarà Da ridere Perché Madonna Quanto sei vestito male Non mi ricordo mica Comunque Non mi ricordo Mica come si fa Ricordo che È diventata Merda Questo non lo ricordo Cioè L'idea è fantastica Infatti Molto hype Per come la presenteranno Dopo però Qua è chiuso Per adesso Qua si aprirà Chiuso Questo Sì Precisamente chiuso Ragazzi Per consigli Ragazzi Ma sai Questa è una one shot Comunque Non Non andrò avanti Quindi Comunque Non arriverò A prendermi Le armi Avanzate Questa pistola Ha i critici buoni Ma per me Comunque spara Guardalo Bello Questa sorta Questa sorta di Cos'è Cioè Cos'è Un coccodrillo Beso Che cosa È di un cafone Questa boss È geniale È geniale È geniale Per certe È veramente Geniale Comunque Ecco Quanto è stupida Questa cosa Quanto è stupida Visto che mi servivano Le uova Se lo dicevo Non mi servivano Le uova Questo è Non vedo nulla Non vedo Non vedo Non mi ricordo Come si fa Non me lo ricordo Non me lo ricordo Eh Non Vi giuro Sono Sono io Quasi Io non me lo ricordo Ok Per questo dicevo Che mi servivano Le uova Perché non mi ricordo Come si fa Perché Perché Tua mamma Madonna L'ho inter Intercettato Che fastidio Sì sì No Lui La barca Non si tocca La barca Non si tocca Mi sa che Mi accoppa Comunque A me fa Sbuccare Questo combattimento Dai Leon Dai Leon Dai Non perde il cappello Non perde il cappello esatto No Il cappello Non si tocca Non sono mai riuscita a fare L'odio Cioè Non ci posso fare niente È un limite mio Mi fa veramente Venire lo sbocco Dai Com'è possibile Ma porca troia E daie Ok Ok Quanto l'odio, l'odio Sì, sì, vabbè, va, va Va, va, taglia, taglia Taglia, taglia No, no Quanto è lunga sta corda Quanto è lunga sta corda L'idea è troppo carina Cioè l'idea di questa boss è veramente bellina Ma secondo me durerà anche di più Sarà fatta meglio Il problema è principalmente... Allora, non è fatta bene Però il problema è principalmente mio Perché a me proprio il movimento della barca mi destabilizza Quindi mi si rallentano tutti i sensi Tutti i sensi Non... Cioè proprio sto male Quando inizio a derapare non capisco più niente Quindi l'avete vista molto peggio Vediamoci la scena L'avete vista... L'aveste vista molto peggio Ah, tra l'altro Ada Di come effettivamente sia Però... Può essere molto migliorata Luca sa grazie Grazie per la... Per il quarto mese Strano che non si sia svegliato con un indumento in meno Perché fino ad ora ogni volta che è svenuto Si è svegliato con un pezzo di vestito Gli hanno tolto la giacca Il prossimo No, il torso nudo, no? Quanto è trash questa cosa Anche all'io non ha fatto un brutto effetto la barca Sì, esatto Ma io solo Cioè sarebbe successa la stessa cosa pure a me Poi sembra molto più giovane Non lo so Con questo vestito da gangster Non ti vuoi dire solido? Allora, ho iniziato a sentirmi E poi credo che ho perduto la consapevolezza Mi perduto la consapevolezza? Segnore Possiamo fare dei pantaloni Sì, 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 esatto Vabbè Allora Ci leggiamo qua Lettera anonima C'è un oggetto importante Nascosta alle cascate Se lo trovi potresti riuscire a ribare Asceli dalla chiesa Ma stai in guardia Il cammino per arrivare alla chiesa Non è una passeggiata Hanno schierato un certo El Gigante Quindi chissà che cosa sarà Un nome così fantasioso Se si chiamasse Pino Capito? C'è Pino Chi sarà mai questo Pino? Quindi fai attenzione Riguardo a quello che sta succedendo Al tuo corpo Mi piacerebbe aiutare Ma la situazione Oltre le mie competenze Sì Chissà chi è Chi ha scritto Mio corpo che cambia Nella forma e nel colore È una strana sensazione Vabbè La smetto No Stiamo salvando sul 20 Va bene ragazzi Allora Dai Tre ore di live Pulitissime Fine capitolo Siamo andati anche più lontano Di quanto pensassi Alla fine è stata abbastanza liscia Purtroppo Il lago A me fa sbrottare Non ci posso fare niente È un problema assolutamente mio Ripeto Sicuramente migliorabile Come boss fight Più che altro A livello di comandi Forse un po' Poco chiaro Perché a volte Perché neanche sembra Che lo danneggi Cioè distinto Sembra Distinto Quello che penserei io Se non sapessi È Lo devo colpire Abbastanza volte Da farlo immergere Poi lui mi carica E lo devo colpire in bocca Cioè distinto Mi viene da pensare questo Invece no Lo sconfiggi tranquillamente Ad arpionate Per cui Hai questa sensazione Secondo me Che non lo stai danneggiando Mentre in realtà Lo stai danneggiando Però vabbè Dico C'è decisamente di peggio Sicuramente È una delle fight Più Originali Alla fine Se ci pensate un secondo Non è Ma anche nei remake Quasi sempre Le boss fight Sono Nemico grosso Che ti insegue In un'arena Corri Ti allontani Ti giri Chi spari Continui a correre Ti allontani Ti giri Chi giri Ti giri Gli spari Qui quantomeno Un'arena unica Una meccanica unica Un nemico unico È comunque un'idea molto figa E di certo Non lo andresti a criticare Quando è uscito Ricordiamoci che Quando è uscito Resident Evil 4 Era il futuro A livello di comandi Super action Una cosa incredibile È invecchiato Tanto Perché essendo stato Il primo Chiaramente Poi si è fatto Molto meglio A livello di responsabilità Andando avanti Quindi adesso Senti che È legnoso Comunque C'è questo Mezzo Comando tank Che non è tank Però Non è neanche Puro action È un po' strano Questo modo di muoversi Di Leon Sembra Sembra che stai guidando Una macchina Che fai le inversioni Però Chiaramente Continua a dire È un gioco Che per i suoi tempi Era eccezionale Quindi Hype a mille Per Resident Evil 4 Remake Stracontenta di essermi Rigiocata Questi primi tre capitoli Veramente Veramente figo No ma infatti Davide assolutamente Volevo un attimo Rigiocarmelo Ma Sono curiosa Di vedere anche Le differenze Quindi a questo punto Io vi ringrazio Per avere Partecipato Abbiamo Guardate Avete Abbiamo Il gatto Che sta giocando King of the castle Facciamo il ride Sembra carino Il gioco Sembra carino Sta facendo il pg Quindi facciamo il ride Ma lo salutate Mi raccomando E vi auguro Una buona serata Ci vediamo Prestissimo Con Resident Evil 4 remake Seguite i social Se volete restare aggiornati Per sapere quando sarà la live Buona serata Grazie a tutti